Bisogna fissare i tempi dei trasferimenti e soprattutto i migranti, una volta identificati, devono avere il diritto di uscire non attraverso i buchi della recinzione. Lo ha detto Mauro Palma, garante nazionale dei detenuti, che ha tenuto a Palermo una convenienza stampa dopo la visita all'hotspot di Lampedusa insieme al garante regionale Giovanni Fiandaca. Nella struttura di Contrada Embriacola, sulla più grande delle isole Pelagie, di recente si è registrato il suicidio di un giovane tunisino, ospite dell'hotspot da quattro mesi, e poi la rivolta con Sassaiola contro le forze dell'ordine e accoltelamento fra migranti. Voglio sottolineare la dedizione e la competenza di chi lavora nell'hotspot, ha spiegato Palma, dopo aver incontrato il personale. Al momento ci sono 194 letti, la menza è occupata dai materassi, mangiano in piedi o seduti a terra, ha spiegato Giovanni Fiandaca, garante regionale dei detenuti. L'impegno principale è quello di tenere contenuti i numeri affinché altri spazi possano essere recuperati. Secondo Palma nulla è cambiato dopo la denuncia di un anno fa. Non è possibile che nell'hotspot di Lampedusa, dopo un anno dalla nostra denuncia al ministro dell'Interno, ha confermato Palma, ci siano ancora i water senza porte e materassi sporchi e non ci sia una mensa. Tutte le indicazioni di miglioramento non sono state accolte. Mi viene detto che possono allontanarsi da un buco nella rete di recensione. Per il sindaco di Lampedusa, Totto Martello, comunque le parole di Palma sul centro di accoglienza confermano quello che sostengo da tempo. La struttura è inadeguata, dice Martello. I migranti, nella maggior parte dei casi, sono abbandonati a se stessi a tempo indeterminato e questo determina conseguenze sulla popolazione e sulla vivibilità della nostra isola. Non voglio alimentare polemiche, ma in poche ore di permanenza a Lampedusa non credo che il garante Mauro Palma abbia avuto il tempo di psicanalizzare tutti, compreso il sindaco, per arrivare a stabilire chi è calmo e chi non lo è.